Voglio poter dire sulle regionali che in Lombardia candidiamo Letizia Moratti perché è stata una persona capace, equilibrata, perché ha gestito bene la vaccinazione e guardate un po' nel Lazio sapete chi supportiamo? Un signore, assessore, anche lui alla sanità, anche lui ha gestito bene, che è stato di rifondazione comunista, poi è stato di ESPD, sapete perché? Perché si è buttato tutto questo dietro le spalle ed è riuscito a costruire attraverso il pragmatismo un lavoro sulla sanità che ha funzionato esattamente come Letizia Moratti. Potranno Alessio D'Amato e Letizia Moratti stare nella stessa area? Non potranno, ci sono già nella realtà, sono tagliati in due dalla politica.